Una fitta rete di iniziative economiche e culturali, comprese le giornate vietnamite a Torino e in Piemonte, in occasione di Terra Madre e Salone del Gusto, stanno consolidando le relazioni tra Italia e Vietnam. In questo contesto si è tenuto a Palazzo Lascaris un seminario promosso dalla Camera di Commercio Italia-Vieta. Prima dei lavori, il Presidente del Consiglio ha ricevuto l'ambasciatore in Italia della Repubblica Socialista del Vietnam, Chao Chin Tien, sottolineando come la politica debba promuovere forme di collaborazione tra gli Stati. Il 2018 segnerà l'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam, un'occasione veramente propizia, unica per l'Italia, parte della Unione Europea, ma soprattutto paesi molto vicini per cultura, anche se i paesi sono lontani geograficamente. Il Vietnam in Asia è un po' come l'Italia in Europa, due paesi che hanno molte affinità e molte complementarità, quindi sarà un'occasione veramente propizia e speriamo, facendo conoscere questo paese in Italia, di poter sviluppare dei rapporti di interscambio commerciali e economici molto, molto proficui.